La Marcorda non aiuta. L'ultima volta in nuova fetta sul campo di Vismisano perse per tre reti a uno. Nonostante alcuna assenza di rilievo, la Vismisano gioca una partita con coraggio creando grattacappi alla capolista che ha la bravura di rispolverare dal cappello magico Mattia Stefanelli tornato al gol dopo un lungo digiuno e di ristabilire la parità aggrappandoci anche le parate del proprio portiere Semprini costretto ad alzare bandiera bianca per un rigore e per un'altra rete. Dopo 20 minuti di attenzione il primo vero squillo arriva al 22esimo. Punizione di Meluzzi, la rinciampa sulla caviglia dell'ex marino Amantini e per l'abito trattasi di rigore. Il repreci mostra proprio il contatto tra i due centrocampisti in maglia numero 8 dagli 11 metri, urbinati, fredda così, Semprini. In Nuova Fetia non ci sta, da una punizione di Rinaldi nasce un parapiglia in area di casa con la prendo io, la prendi tu, batti e ribatti con un nulla di fatto. La rimessa laterale Imi sanno torna a farsi pericoloso, Imo l'appoggia per Torsani, battuta di prima intenzione, Semprini blocca senza difficoltà. Al 35esimo nuova punizione per In Nuova Fetia, Farabegoli scodella questo pallone pescando la rete Stefanelli che trova coordinazione, porta, ma Batani è pronto a rifugiarsi in corner. Un minuto dopo Stefanelli è ancora protagonista, viene lanciato in profondità, trova però solo l'esterno della rete. A 46esimo Stefanelli viene toccato da Siliquini, il reprea a nostra disposizione lascia a voi spettatori interpretare il giudizio arbitrale. Con questo episodio si chiude il primo tempo. Ripresa più avvicente e molto più bella, Stefanelli spizzica il pallone di testa per la corrette Gorica, alla pecca di fare quel saltello di troppo che penalizza la sua conclusione, con Batani, bravo, a prendersi gli applausi del proprio pubblico. Il contropiede, l'ottimo rubinati, favorisce l'aro alla conclusione, che viene ribattuta sul proseguimento dell'azione di Torsani, spari bocca a Semprini. Il pareggio arriva al minuto 13 della ripresa, il pressing di radici è efficace. Amantini sbrana una palla e serve in corsa dall'altra parte Stefanelli che stoppa la sfera, bucando le mani a Batani per il momentaneo pari. Ritorna gol per l'ex Amarino. Neppure il tempo di festeggiare che dall'angolo Imola pennella una traiettoria sporcata dall'imolontaria deviazione di Mamutai. Per il centrocampista trattasi nel secondo autogol dopo quello con Morciano in stagione. Sfortunato. Il Misaro vola sulle ali dell'entusiasmo. Torsani chiama la deviazione di Corri Semprini che tiene a galli i suoi. Nel frattempo il nuovo entrato Baldinini crea scompiglio come del resto Sebastiani. Appoggio per Gori, tiro di quest'ultimo sporcato proprio da Baldinini. Pallone fuori. Il contropiede Pironi spara addosso a Semprini che distinto di piede respinge. L'azione prosegue con un nulla di fatto. Il nuova ferita perviene a pareggio. Poco dopo Sebastiani lancia Baldinini, spalla alla porta, protezione del pallone e arriva in volata di Stefanelli, steso da Fraternali. Calcio di rigore. Il repubbio a disposizione ci mostra proprio il contatto che avviene tra il numero 5 di casa e il giocatore in maglia numero 9 del nuova Feltia. Da discreto il tiro di Rinaldi bacia prima il pallo per poi saccarsi in rete. 2-2. Il Misano nel finale rischia per la terza volta il nuovo vantaggio. Torsani va alla battuta. Semprini respinge sui piedi urbinati che a botta sicura trova Raffelli. A Negalli la gioia dei gol con un prodigioso salvataggio. Il repreno mostra appieno il salvataggio che vale quanto gol per il nuova Feltia. Nel finale saltano i nervi. L'allenatore Bucci viene allontanato dal direttore di gara. Lo stesso allenatore polemizza con la tifoseria avversa prima che anche Meluzzi dalla panchina, era uscito tra l'altro nel corso della ripresa, riceva il giallo per proteste. Termina qui una gara vincente specie nella ripresa. La faccia degli assenti con buona pace di tutti. Il nuova Feltia dopo il Natale si regala anche la Pasqua da capolista.